Siamo a Genova in occasione del congresso post-ASH e abbiamo il piacere di parlare con il dottor Felicetto Ferrara che ha tenuto un'interessante relazione sulle leucemie acute linfoidi. Dottore quali sono le novità più rilevanti emerse dal congresso ASH di quest'anno dal punto di vista della biologia della clinica della leucemia linfoblastica acuta? In campo biologico c'è stata una sostanziale conferma che è quella della validità dell'approccio basato sulla determinazione della malattia minima residua. Questo vale sia per le forme in fila delfie positive che in fila delfie negative e come emerso chiaramente dalla presentazione di Robin Foa perché quest'anno abbiamo avuto come italiani l'onore e il privilegio che un italiano è stato chiamato a svolgere una delle sessioni educazionali dell'ASH proprio riguardo la leucemia acuta linfoblastica e la fila delfie negativa è emerso in maniera abbastanza chiara ed evidente che la terapia non può oggi non essere come si dice MRD-Dryman tanto che addirittura è in discussione la validità del trapianto allogenico nei pazienti che ottengono una remissione molecolare molto precoce e molto profonda. Dal punto di vista clinico io direi che fondamentalmente due concetti sono stati enfatizzati. Il primo è l'intensificazione della terapia nei pazienti direi fino a 50 anni nei quali ormai è condivisa l'approccio il cosiddetto pediatric like che si basa fondamentalmente sulle alte dosi di asparaginasi in in induzione e l'altra grande novità che in parte diciamo è anche una conferma è dell'introduzione più o meno imminente nella clinica dei nuovi anticorpi monoclonali e direi in un futuro un po' più lontano delle delle carti. Ecco quali sono a proposito di farbaci quelli più promettenti di cui si è parlato al congresso americano? Grossa enfasi c'è stata direi su due anticorpi monoclonali i cui dati sono ormai solidi uno è il Blinatumumab che è un T-cell engage che è un meccanismo particolare diciamo di doppia citotossicità è stato presentato dal professor Martinelli di Bologna uno studio importante sulle leucemie acute linfoblastiche filadelfia positive ricordo che l'attuale indicazione approvata FDA ed EMA è per le forme filadelfia negativa ed in questa presentazione del professor Martinelli è emerso in maniera chiara che il farmaco può avere una grande utilità anche nelle leucemie acute linfoblastiche filadelfia positiva. L'altro anticorpo invece è un immunoconigato si chiama inotuzumab ozocamisin e anche questo dà dei dati molto promettenti. Io credo che quello che dobbiamo imparare è l'esatta collocazione di questi farmaci che probabilmente se usati in fasi molto avanzate di malattia possono dare dei risultati peggiori e perlomeno per quanto riguarda il Blinatumumab è probabilmente oggi il migliore approccio possibile per la terapia della malattia minima residuo. Questo serve ovviamente anche a portare il paziente al trapianto allogenico con un load diciamo di malattia estremamente basso e quindi di migliorare la prognosi anche del trapianto. Ecco quindi alla luce di tutte queste novità che scenario vede per la terapia per i prossimi anni per il futuro? Sì io credo che oggi non possiamo rinunciare all'approccio pediatric like fino a 50 anni direi e magari adattando alcuni dosaggi di farmaci anche in pazienti in età più avanzata. Per quanto riguarda le forme filadelfia positive sostanzialmente abbiamo due possibilità. Uno è l'impiego di soli TKI, l'altro è la combinazione TKI e chemio, ma è molto bello l'approccio italiano che prevede nell'immediato futuro, dovrebbe partire lo studio tra non molto, l'impiego di TKI in fase iniziale diciamo e poi consolidamento con Blinatumumab per negativizzare ulteriormente la malattia minima residuo. È ovvio che un posto preponderante nel futuro sarà preso dalle cellule CAR T e il problema è legato fondamentalmente ai costi e anche alla fruibilità di questa tecnologia che è un po' complicata, anzi direi abbastanza complicata a un largo numero di pazienti.